Buongiorno e un saluto a Carta Carbone, mi chiamo Alberto Cellotto e leggo un testo senza titolo dall'ultima raccolta non essere pubblicata da Vidia. Pare inverno con la neve alta su tanta terra, le scuole chiuse in America, motori accesi 24 ore, eppure certe temperature, e io, io sprofondo su questo. Qui si inventa una pioggia calda sul gregge, i muli e sull'impermeabile giallo del pastore che chiude. Guardiamo intanto i rami dei fiumi marroni. Ci sono ancora le isole di Ghiaia al centro, e qualche pulcino finito sul cemento si disperde. Ripenso che avevi ragione a dirmi, prima di nascere tu eri un cavalluccio marino. Avevi proprio ragione a dire. Lo sappiamo che è una tenera imitazione della vita tutto questo, un regesto presto scorso o dimenticato. Un saluto e grazie.